Io promuoverei Carlo Conti perché in una televisione che comincia a registrare tutto, come accadeva un tempo, era più una caratteristica degli anni 80, della media set, degli show molto montati, cuciti e tagliati, Conti fa come tale e quale, come si può fare dei show in diretta, molto complicati, di trasformazione, di prove che devono essere fatte per i concorrenti durante tutta la settimana e riesce a orchestrare gli elementi con la maestria di un personale come quello della Rai che per fare quelli show lì è insuperabile e lo dico da un artista media set insomma, per cui la sua bravura è riuscire a fare gli spettacoli come una volta ma non buttati su, fatti bene e provati alquanto. In generale credo un genere che è il talk di approfondimento politico, la mescolanza tra le elezioni, gli schieramenti, le reti private o pubbliche che siano ormai mi rendono insopportabile a qualsiasi discussione dove i protagonisti sono i politici che ci vanno e non gli argomenti che trattano. La bellezza credo del testo di questo La sposa in blu è proprio generata dalla mescolanza tra risata e momento dark, tra omicidi e ferati e sesso sempre dichiarato e fatto pochissimo, questo genera poi una situazione soprattutto in chi ha una certa età, un minimo di ingombro dal punto di vista mentale di non sapere che cosa sia in testo se non delle idee cattive. Un saluto per TV Zoom, non zoomate altrove, restate a zoomare qui dove volete andare.